Quella è una zona che io conosco molto bene perché appunto esplico parte della mia attività professionale, per cui conosco la realtà, conosco quello che il progetto, questo progetto di diagonale, così viene definita, prevede e personalmente, tecnicamente conosco una serie di criticità legate alla gestione ambientale e non dell'attuazione di questa opera. Se vogliamo iniziare da un punto di vista tecnico forse meno legato a quello che è l'agroecologia, quindi l'ecologia che si viene a sviluppare in un ambiente agricolo, parliamo sicuramente di due leggi nazionali, una del 2015 e una del 2020 inerenti, all'implementazione e sostegno di quella che è la non deturpazione del territorio, quindi il non impoverimento dell'entomo fauna utile, di quello che è tutto l'habitat delle specie agricole e non, e poi una decisione della Corte dei Conti del 2020 dove diciamo che allo Stato italiano viene suggerito caldamente di remare in questa direzione, per cui partiamo da dei presupposti legali che secondo me servono oggi al mantenimento di quello che è l'agroecosistema fondamentale per il domani. Un'infrastruttura di questo tipo, ma come tutte le infrastrutture, portano a quello che è un impoverimento ed indebolimento di tutte le specie relative all'entomo fauna utile, per cui tutti i vari insetti e funghi antagonisti, in questo senso sono, passatemi il termine, insetti utili, portando appunto all'impoverimento di questa frazione, che cosa abbiamo? Abbiamo quelli che vengono chiamati insetti a fattore RK, cioè sono insetti che senza un biocontrollo, quindi senza che qualcosa in natura, già di per sé i controlli prendono il sopravvento e questo cosa significa? Significa che il panorama è ricorrere ad un uso ancora più intenso, ancora più massiccio di quello che si è fatto negli ultimi anni e di quello che non si dovrà più fare, di prodotti fitosanitari. Quindi è un po' un coltello a doppia lama, un impoverimento ecologico da una parte e un incremento di quello che è la chimica di sintesi, non siamo qui a demonizzare la chimica di sintesi, però diciamo che in un'ottica di futuro sostenibile questa pratica non è forse una delle più ideali. L'area da cui dovrebbe avere origine questo progetto è un'area fortemente vocata per l'agricoltura e l'orticoltura in generale, è un'area che viene classificata prima dall'Europa e poi dal MIPAF, quindi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come AVN, significa aree ad alto valore naturalistico, naturalistico non per la bellezza naturalistica, ad alto valore naturalistico nel senso che sono aree fortemente vocate e che devono essere incentivate alla coltivazione, perché sono aree in cui l'utilizzo di input esterni, quindi tutti i vari mezzi tecnici, dei prodotti chimici, alle concimazioni, all'acqua, è ridotto ai minimi termini. Questo grazie anche alla bontà pedoclimatica e agronomica della zona, che io posso dire di conoscere perché appunto ci lavoro. Il termine GDO significa grande distribuzione organizzata. L'area in questione, quindi l'area che appunto è fulcro della partenza di questo progetto, è un'area che serve importanti catene della grande distribuzione organizzata, catene che tutti conosciamo, quelle che vengono chiamate anche OP, quindi organizzazioni produttori, non solo a livello locale ma anche a livello regionale ed extra regionale, che vengono in Romagna per la bontà e la salubrità dei prodotti che poi vendono in Italia oppure all'estero. Per cui questa è un'altra criticità, appunto, oltre che il depauperamento dell'agroecosistema, una distruzione pressoché totale di piccole aziende, perché ricordiamoci che la Romagna è un'area di grossa frammentazione agricola, per cui abbiamo piccole aziende, aziende addirittura sotto l'ettaro, quindi sotto i 10.000 metri quadrati, che personalmente conosco quelli che sono ad oggi clienti, che guardano della mia assistenza tecnica, che si vedrebbero portare via tutto quello che oggi gli fa sopravvivere. Mi sento di poter parlare anche da cittadino, cittadino santarcangiolese quale sono. Io ricordo bene gli albori di questo progetto e questo progetto nasceva per servire quello che si sarebbe dovuto chiamare transit point. Il transit point, che poi è stato un progetto abortito già 15 anni fa, non era altro che un'area logistica, un piccolo interporto che doveva servire da smaltimento del traffico pesante in uscita dall'A14. Questo progetto non è andato a buon fine, infatti è stato affossato subito sul nascere, per cui io ad oggi tecnicamente ci vedo soltanto delle criticità, tecnicamente ma anche a livello di estimo rurale, quindi abbassamento del valore dei fondi, perché i fondi verranno spezzati, tagliati in due, servitù infrastrutturali, quindi tutto quello che ne conviene attorno a una viabilità principale come quella che dovrebbe essere. Da cittadino credo appunto che non ci sia ad oggi una sensatezza per la popolazione del Comune di Rimini, del Comune di Sant'Arcangelo nella fattispecie, per quello che è l'implementazione e l'andare avanti di questa opera infrastrutturale.